Allora, presentazione dell'evento Fire Warriors, siamo con Simone Piazzolla, anche tu combatterai durante questa serata. Tu sei un combattente di kickboxing e di full content e adesso passi alla Thai Boxing. Quindi dopo esserti preparato e aver creato un background buono, diciamo in pugilato e kickboxing, adesso passi alla Thai. Esatto, diciamo che la scelta è stata fatta per cercare un miglioramento tecnico, per il clinch, per l'utilizzo dei gomiti, ci proviamo. Bene, qui c'è il tuo allenatore, Felice Taranto. Ciao. Il ragazzo è emozionato, però si vede che è un ragazzo che è in gamba. Sta crescendo, come ha detto giustamente lui prima, ha fatto le sue prime esperienze in full content, è passato alla kickboxing, anche in one style e adesso cerchiamo un miglioramento tecnico anche nella Muay Thai. È la prima volta che ci cimentiamo sul combattimento col clinch e con i gomiti. Ha lavorato tanto, ha lavorato in Italia, ha lavorato anche un po' in Thailandia, quindi vedremo cosa diciamo a portare a casa. Tecnicamente le sue qualità sono la velocità e delle grossi doti tecniche. Vediamo se sul lavoro un po' più statico come la Thai riesce a rendere in un qual modo. Allora, Felice Ottobre, evento Fight Warriors, saremo lì per vedere il tuo match e poi intervistarti dopo un match. Grazie e a presto. Grazie a te, ciao.